Pare che sia scoppiata la guerra civile. I centristi del governo e i militari hanno formato un'alleanza contro gli ultranazionalisti. Stiamo ricevendo rapporti di scontri fratricidi fra i russi da Smolensk a Vladivostok. Porteremo avanti la nostra strategia di attacchi contro le basi militari che appoggiano il colpo di Stato. Il vostro prossimo bersaglio è la base aerea di Arkhangelsk, dove vengono eseguiti collaudi dell'S-37 Berkut, un nuovo prototipo sperimentale di caccia, e del Ka-50 Hocum, l'elicottero d'attacco russo della prossima generazione. I vostri obiettivi sono di piazzare delle cariche da demolizione negli hangar del Berkut e dell'Hocum e di neutralizzare completamente la torre di controllo. I servizi informativi indicano che le misure di sicurezza presso Arkhangelsk sono scarse. Apparentemente, dopo il colpo di Stato, si è verificato un forte aumento delle diserzioni, dunque per entrare laggiù non occorre andare troppo per il sottile. Secondo le nostre analisi, la tattica migliore è un racco frontale. Colpiteli duramente con decisione e andatevene il più presto possibile. Fantastico! Ragazzi, cominciamo bene! Prima cosa mi sono ringraziato attraverso l'aria. Ok, un'altra missione di notte, abbiamo tutti gli specialisti. Finalmente, quest'uomo qui fa la coppia con Giacomo! Guardate, è fortissimo! Allora, serve... comunque... Allora, prima facciamo così... Giacomo, io non so cosa dirti, ti do resistenza, che se vuoi che ti dica io. E a te do... do... boh? Cosa do? Do questa. Allora, tu vai via subito. Vai di Etermoons! Come come non possiamo trovare un nome di Eterio? Allora, qua siamo a posto, perché tanto comunque serve il demolitore. Aspetta un attimo... tu hai la caricatura? Sì! Aspetta, a te do... c'è la granata? Sì, anche tu hai la granata, perché è un po' scopodo andare in giro senza granata. Qua si può andare tranquillamente così, magari, eh. Sì, io direi di sì. Facciamo... Arrm... ma... poi facciamo... questo qua è tutto a 4, non so che caglio fare! Ti do... anche a te, anche arma a te e a te diamo un comando facciamo così ola i due cicchini così siamo a posto perfetto dai andiamo finalmente abbiamo abbiamo a dietro la coppia d'oro la coppia d'oro allora dove dobbiamo andare torre di controllo possiamo andare due di qua e loro fanno il giro di là però bisogna stare molto attenti allora bravo potete andarmi qui si perfetto noi andiamo dritti proprio drittissimi allora spara guarda si ma se magari non ti bug anche dai ragazzi cominciamo benissimo cominciamo in una maniera proprio guarda di qualità mamma mia ok bastava dargli un minimo di un po' di incoraggiamento vediamo un po' se c'è gente qua in giro finalmente abbiamo il nostro uomo di fiducia il mio uomo di fiducia Dieter Moons ma se suona bene Dieter Moons mamma mia oh là vi faccio vedere come si come si usa come si gioca finalmente a sta roba dobbiamo andare qua dentro però io faccio il giro un po' largo perché è meglio meglio prevenire che curare meglio controllare per bene e da per tutto perfetto ok c'è già gente guarda quanto questo spara questo tizio aspetta c'è gente lì in fondo spara storto spara molto storto questo cristiano qua però questo sì un attimo devo stare molto attenti qua andiamo a tornare indietro un secondo voglio non voglio non morire guarda guarda tunnel lì si fa cappare subito ma scusami cominciamo bene guarda benissimo in qualità mannaggia lui aspetta ma non è vero però non è vero mannaggia devo fare così ma ragazzi perché perché devo fare perché succede sempre così ogni fottuta volta dai ma che stronzo devo fare così se no mi vedi dovresti esser carmi tutti lo vedo attraverso la porta è già eh eh fuori uno attenzione merda c'è una granata oh ok porca troia un attimo eh quella questione mamma mia mamma mia non so da dove spara proviamo a tirare una granata qua dentro magari ma perché ma non è giusto scusa ma loro mi sentono che cambio arma è palese palesemente mi sentono dai prosegui venga qui mannaggia mannaggia lui proprio guarda ce n'è un altro ce n'è un altro ma sati dio guarda alzo e muoio ok che cazzo Giacomo porca puttana mi ha fatto venire un infarto sei un deficiente crepa un'altra vittima che proseguire qua mamma gonna santa ok c'è un problema però con questo ma qua è veramente sprecisa sta cosa facciamo così dai ma nigerio porca puttana guarda sti deficienti la siete dei cretini ragazzi li hai rimbalzati in testa Giacomo io non so che cazzo che cazzo dire facciamo così direttamente allora tira tira mori scoppia bene potete andare avanti facciamo così facciamo così perché non so sinceramente ok vaffanculo va qua è pieno di porte è pieno di porte qua vaffanculo c'è c'è ok va bene no tutto nella norma insomma diciamo che cazzo devo fare facciamo così di nuovo apri la porta tira sta granata de merda correte via bene e c'è poco sorveglianza santi dio sono tutti quanti qua ce la fate andare qui senza crepare aspettate un attimo stiro tira una salvata faccio un giro di ricognizione qua ok in teoria ce la fanno e magari uno spawn a qualcuno ok facciamo così poi vediamo il comando di andare qua usciamo porca merda giacomo togliti salva mamma mia apri qui mannaggia te sei la stessa stanza vero si bene porca troia l'interno è il posto peggiore di tutti quanti guarda ok ci sono 260.000 porte apri qua non posso aprire ok ok ci siamo ok qua è fuori bene voi state lì accampati malissimo apri qua insomma c'è uno qui palese non c'è pedra contro verifica con calma ok qua non c'è nessuno mamma mia ste cose mi fanno cagare in mano giacomo giacomo guarda lì che entrano tutti quanti proprio come delle capre ok è qua che devo andare è qua davanti questa qua è la torre si è questa qua la torre davanti vediamo verifichiamo un attimo c'è nessuno c'è qualcuno lì in fondo no ok mettiamo di qua mettiamo di qua salva sempre davanti alla porta bisogna salvare davanti all'uscio ok clear apri apri vai avanti va vittima confermata ok siamo bloccati dove stare calmi beccati accendi mannaggia te tira sta cazzo di granata scoppia mamma mia bene sono tutti vivi sì abbiamo avuto fortuna lì abbastanza fortuna grande qua c'è qualcuno va no mamma mia toglietemi tutti ok qua bisogna andare qua forse mi ricordo eh sì sì bisogna andare qui oddio questo tizio qua aspetta eh aspetta un attimo non mi ricordo se era qua il tipo non mi ricordo perché c'era un tizio che continuava a uccidermi guarda Giacomo lì che cammina tutto scattoso sì sì era qua sopra era qua sopra c'era un tizio che continuava a uccidermi no e quel giorno ho detto perché non ho portato delle fottute granate aspetta facciamo così mamma mia là scoppia bene fuori un altro questo davanti è morto adesso ce n'è uno a destra ce n'è uno a destra che dà abbastanza fastidio quindi occhio eccolo lì è lì dietro aspetta tiriamo un'altra granata va là pezzo di merda nemico ucciso l'ho triturato malissimo anche aspetta un attimo ok sono tutti vivi salvo di nuovo qua ogni kill bisogna salvare beh dai crepa ok però c'è ancora gente però fammi vedere un attimo c'è ancora gente mi dice c'è c'è ancora qua il cuo scusa ma perché sbrillucci la scusa ma ragazzi che cazzo è quella roba lì giacomo aspetta un attimo giacomo sapete cosa sembra non lo so non lo so è stranissimo quel coso lì ok andiamo giù anzi sapete che andiamo prendiamo l'oro no intanto gli do gli dico di andare giù andate alfa andate qua ok andate fuori usciamo intanto io vado avanti con questi se no facciamo notte se no ok avanti ok dobbiamo andare qua dentro mi sembra qua dentro si si qua dentro dobbiamo andare vado su mettiamo la pistolina eccoli lì ok alzati tutti morti in teoria si bene prendiamo il demolitore di qua demolitore ho portato la claymore sono un coglione ho portato la claymore vabbè dai sapete cosa intanto andiamo a pulire tutto intanto puliamo tutto mannaggia a me che ho portato la claymore perché il segnale della claymore è simile il segnale della claymore mannaggia a lui vabbè intanto puliamo tutto quanto dopo loro possono tornare nel no possono tornare nella nella cazzo di cosa abbiamo perso ma va a cagare va che palle fra tutto io qui ok mannaggia a voi tutti ahhh aspetta questi sono ancora dentro l'hangar no che palle aspetta non si sono mai qua sono per le scale qui no crepa lo sapevo io guarda lo sapevo che era vicino alle scale era palese guarda era palese che era lì ma non c'è nessuno questa arma fa i buchi fa i buchi per terra ok si può andare avanti si perfetto andiamo di là facciamo saltare l'altro coso di qua anzi salviamo molto importante voi altri non so cosa farvi fare sinceramente ok intanto facciamo tutto qui dopo vado di là mando alfa nell'altro obiettivo dopo torno indietro con beta che con bravo e facciamo tutto il resto perché sono stato un idiota mi sono portato la camor ok mi ricordo se era qui o qui l'entrì è qua è qua dentro ok si uguale a quell'altro uguale all'altro capanone quindi andiamo su che cazzo sono tutti sono sotto eccoli lì perfetto molto bene tu prendi mamma mia per fortuna sapete cosa il gioco vi dice se manca la la carica da demolizione quindi ok sono tutti morti qua bene piazza sta cosa là bene adesso andiamo di qua voi altri alfa andate qui magari facendo l'altro giro magari facendo andando di questo salva sì sì dobbiamo entrare ancora qui che palle gli ho messo la corsa no come il diota che sono ok andiamo su mettiamo i tre stronzi di prima erca merda giuro scherzavo ma che palle allora facciamo così allora facciamo così tiro una granata ma guardate devo andare piano però perché mi sentono aspetta crepa crepa perfetto bene adesso andiamo via gli dammi il cecchino qua sono tutti vivi sì salva fai partire qui siete stai partendo sì ci vuole un po' che vadano avanti però prima o poi arriveranno che palle quando siete sta roba guarda c'è gente anche qua dentro verifichiamo un attimo c'è gente qua sì c'è gente va bene dai salva di nuovo perfetto con calma con calma che circospezione mi ha detto che c'era gente il rad il rad mi ha detto che c'è gente adesso petta petta è lì dietro aspetta faccio un frencaggio tattico vittima confermata erano lì davanti eh non li ho visti non li ho visti ragazzi scusate non li avevo praticamente visti vi prego ok non li avevo visti giuro vabbè qua è stato ripulito adesso andiamo in questo hangar qui ripuliamo tutto merda abbiamo perso un uomo che palle che palle beh almeno adesso so dove sono gli altri tizi dai sono lì in fondo beh dai un attimo ok uno due tre perfetto salva adesso dove è l'altro tipo da dove sono morti c'è un altro mi sa o è sotto andiamo un attimo toglietevi tutti quanti o è o è o è o è passo da qua cosa molto probabile o è o è passo da qua davanti ok però rada non mi dice niente vabbè noi andiamo vediamo un attimo se c'è qualcuno però non mi sembra se c'è qualcuno ma da cosa è morto prima ma non so neppure loro come sono morti non so neppure ok andate andate qua siamo in movimento c'è gente lì in fondo c'è tanta gente qua c'è un sacco di gente qua vediamo perché ci vado sto andando con il cecchino anche io da bravo idiota quale sono vai basta tirare una granata messa bene e muoiono tutti dove non c'è nessuno non c'è nessuno cioè ho guardato prima avete voi avete visto qualcuno io non ho visto nessuno che due smarenghi guarda ma andiamo di qui allora vado di qua faccio il giro di qui eccoli là in fondo ma 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 chi cazzo c'è oddio ha un figlio perciò forse il mondo che stesse si stesse fottendo tutto è lì ah è lui peta ma l'ho preso stardo che non sei altro ok mamma mia adesso ci sono gli altri tizi di qua sono i tizi eccoli lì in fondo vuoi stare fermo un attimo oh si ok è stato fermo perché il mirio non è perfetto in quest'arma non ho capito bene perché il mirio non è perfetto cioè guarda ah no ok non so prendiamo la pistolina dai andate avanti ancora un pochino pezzo di una merdina sono tutti vivi si tiriamo un'altra salvata nel dubbio aspetta un attimo eh facciamo così dai eh pezzo di una merda pezzo di una merdaccia che non sia altro va bene lo faccio anch'io eh ma guardalo ma a volte mi dimentico che hanno il lanciagranate ma guarda sti stronzi di merda crepeschi eh saltate per aria letteralmente sono fermata quindi ma eh mi hanno fatto saltare tutto vabbè vabbè uguale va bene ho senso va bene va bene così vabbè ragazzi io direi che per questo appuntamento di Ghost Recon che si conclude prima del solito abbiamo chiuso Giacomo è stato riposo oggi Giacomo se vi è tutto vi piace con te se vi ci vediamo al prossimo video Giacomo Giacomo